buongiorno amici oggi io papi e tu mi portiamo a fare una splendida partita a un gioco meraviglioso come si chiama sonic vai papi facci vedere mamma mia è un missile questo sonico guarda come salta oh prendendo una capsula di pirendica del tubo che ti presenta il tubo che ti presenta il tubo, ok vai ricordiamo che oggi stiamo giocando sulla oggi siamo sulla play quando metti il tubo è difficilissimo mamma mia quando metti il turbo diventa velocissimo ehi tu anzi voi vanno vanno salto super sonico oh distrutti proprio ma diremo che il quadrato va ancora più veloce lo sai mamma mia che spaventano dove diamo le figlie questo serpentello no allora puoi saltare due volte con la x ho perso non hai capito no non hai perso papà stai ancora giocando ma si ti ho perso perchè no no vedi che stai facendo qui no vedi che stai facendo qui devo stare là devi premere due volte la x ma lo sei in aria allora salta qui l'altro uno e due vedi vai che non hai ancora perso questo è un altro percorso alternativo vedi? vedi? sparo 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 li odio! mamma mia che hai combinato te le hai distrutto tutti quanti papà prendi un po' di ricorsa ottimo mamma mia turbo bam libera di polipetti si mette in turbo guarda il joystick quando fai così lo devi premere più tempo possibile con il tasto che va avanti e vai veloce il ponte qua c'è che cavolo però vedi là sotto c'è una striccia che sta scritto turbo si sembra di un numero inquadrato ma ancora più veloce secondo me guarda che tocca si lo so che la città è vicina è inutile che me lo ripeti noi abbiamo visto il simbisor che ha papà eccola l'abbiamo visto una settimana fa perfetto livello completato ragazzi questo video finisce qui vi abbiamo mostrato Samuele in 4 e 48 come è riuscito a risolvere subito un livello sapete guarda un attimo la sigla guardiamo la sigla vi fate tutti bene? certo, grazie a te anche se sei arrivato all'ultimo lo so, è quello che si deve ok, ora facciamo la punta e non c'è l'auto, non ci credo scena, sei tu zappi me caos questi chi sono? gli amici di sonic? o i nemici? i nemici? sono tutti estremamente pericolosi questi sono gli amici? grazie di sonic ti ricordi Eggman? Eggman è il nemico numero uno? e ha tutti i vostri amici c'è qualcos'altro? devo fare una scansione per capire che baglia hai vittà se è il bambino? ci sono alcuni ci sono alcuni che è un bambino? almeno credo sono un bambino noi chi è un bambino? ci battaglia, il bambino? mua no non morirà sonic sonic non muore mai diamogli una mano qui dice che è diventato il capo e ma l'uomo l'uomo nuovo e ora un nuovo volto si prepara per unirsi alla lotta ragazzi questo video si conclude qui nel prossimo video vi mostreremo il continuo ovvero quando riusciremo a salvare il nostro amato sonic ciao a tutti io sono papi ciao alla prossima ciao ciao